Due comunità sotto shock, quelle di Ghivizzano e di Piano di Coreglia, dopo l'incidente che venerdì sera è costato la vita ad un ragazzo di 26 anni, Rudy Biagioni, perché il giovane era nato a Ghivizzano ma era residente proprio a Piano di Coreglia. Venerdì sera in sella la sua moto Aprilia stava tornando a casa dall'officina dove lavorava. Davanti alla moto, nella stessa direzione, in via nazionale, stava procedendo anche una Fiat Punto condotta da un 34enne, anche lui residente a Piano di Coreglia. Tra l'altro i due giovani si conoscevano, erano amici. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto all'altezza della discoteca Drop si sarebbe apprestata a svoltare a sinistra e a quel punto è avvenuto lo scontro con la moto che ha urtato la vettura proprio sulla fiancata sinistra. È stato il 34enne alla guida dell'auto in stato di shock a lanciare l'allarme. Sul posto sono arrivati subito i mezzi del 118 ma per Biagioni non c'era più niente da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nell'urto. Adesso saranno i carabinieri a dover chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il sindaco di Coreglia, Valerio Amadei, si è recato a casa della famiglia di Biagioni per esprimere lo sgomento di tutta la comunità. I funerali si terranno lunedì alle 16 alla chiesa del Sacro Cuore di Ghivizzano.